Nuovo colpo di scena nelle indagini per l'omicidio di Sara Scazzi. La procura di Taranto avrebbe chiesto l'arresto di Cosima Serrano, moglie di Michele Misseri e madre di Sabrina, entrambi in carcere da tempo per l'omicidio della 15enne nipote. Inoltre la procura avrebbe chiesto anche una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Sabrina Misseri. Le due richieste sono all'esame del GIP. Madre e figlia sono dunque accusate di concorso in sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere. Ad incastrare Cosima Serrano, in base alle indagini, il suo telefonino che avrebbe agganciato la cella nella zona del pozzo in cui è stato ritrovato il cadavere di Sara. Alla base delle due richieste di arresto ci sarebbe inoltre altro materiale probatorio. Oltre alla mappa delle celle dei telefonini, gli inquirenti hanno in mano numerose testimonianze dalle quali sarebbero emerse indicazioni utili a carico sia di Cosima che della figlia. Intanto stamattina si è svolto a Roma, ad opera dei carabinieri del RIS, la comparazione tra il DNA rilevato sul telefonino di Sara e nel garage di casa Misseri e quello prelevato a Cosima Serrano, Ivano Russo, amico di Sara e Sabrina, Michele Misseri, Sabrina, Carmine Misseri e Cosimo Cosma, fratello e nipote di Misseri.